L'ha mandato un napoletano sull'ordine dei banchieri. E' un tecnico. Ma quale tecnico? Ma non male dovrebbe lavorare. Ma quale tecnico? Ma più miglioramenti non ne vedono. Ma finché lo Stato non rimette la moneta che serve ai cittadini e deve chiederla da banca centrale europea che sono privati, è finita. Lo Stato dovrebbe esercitare la sua sovranità monetaria a creare la moneta che serve ai cittadini per cambiare bene i servizi. Sì. Cioè sul mercato sono...